Ciao a tutti questo potete pure cancellarlo andate su skeleton mage ovviamente e andate su minecraft punto net andate su il vostro profilo scegli il documento cliccate, fate un doppio clic e premete upload vedi? your skin has been changed vuol dire che il vostro skin ha cambiato e quindi basterai sul gioco e giocate e vedrete che insomma è cambiato quindi alla prossima chiedetemi altri tutorial che volete di minecraft o altro genere e niente ciao iscrivetevi se vi piace ciao 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 ciao